Una etarina, è così che la novità principale di Hyundai qui al Salone di Ginevra, stiamo parlando della IONIQ e ce la racconta Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Motor Italia. Qui a Ginevra Hyundai presenta un progetto importantissimo, quello di IONIQ, IONIQ è un progetto assolutamente innovativo anche per il mercato, è la prima vettura che viene presentata con lo stesso body style, quindi con la stessa piattaforma, con tre alimentazioni diverse, ibrida, plug-in ibrida ed elettrica. Per noi è un'innovazione importante, è il completamento della gamma ecosostenibile, sicuramente avremo dei numeri e un interessamento più forte sulla gamma dell'ibrida, che per noi vuol dire stile, la vettura è una vettura compatta di 4 metri che sicuramente propone un stile e gradevole al cliente, tantissima tecnologia di bordo e poi soprattutto una capacità di divertire alla guida come credo non esista sul mercato uguale, grazie soprattutto alla trasmissione a 6 rapporti, dopo la frizione a 6 rapporti, che rappresenta una fluidità di marcia e una trazione che possono veramente divertire anche su prototipi di questo tipo, su vetture di questo tipo. Quindi un futuro ecosostenibile che inizia proprio qui sullo stand di Ginevra in questi giorni.